Musica Acqua Trekking cresce il richiamo del Polino sulle appassionati delle escursioni nel segno dell'avventura Escursioni all'insegna dell'avventura nel parco del Polino a Vigianello in aumento gli appassionati di acqua trekking Federica Corsini Acqua cristallina, natura incontaminata, panorami unici Sono questi gli ingredienti per un'esplorazione inedita del parco nazionale del Polino Nelle calde giornate estive tanti turisti provenienti soprattutto da Puglia, Campania e Calabria Che arrivano nella valle del Mercure per provare l'ebbrezza dell'acqua trekking Indossata una particolare tuta con stivali incorporati Bambini e adulti possono immergersi in sicurezza e senza bagnarsi nelle acque di fiumi e ruscelli Tra pareti rocciose, faggi secolari e cascate naturali Accompagnati dalle guide del parco del Polino si avanza a piccoli passi controcorrente Difficile a non essere sopraffatti dalla bellezza della natura e dal calidoscopio di colori e suoni È stata bellissima, io mi sono divertita un sacco proprio, non avevo mai fatto attività di questo genere Cosa ti è piaciuto? Il fatto di stare in acqua, di camminare controcorrente, soprattutto di essere uscita asciutta Un'esperienza a 360 gradi, capace di coinvolgere tutti e cinque i sensi e regalare una prospettiva inedita sulla natura Che affaga curiosità e voglia di avventura Noi abbiamo due percorsi, il percorso Isi, adatto a famiglie e bambini E il percorso Canyon, un poco più impegnativo e ci vuole un minimo di esperienza di montagna per affrontarlo Ed è una risalita controcorrente in cui si affrontano alcune cascate Lungo l'itinerario anche spiegazioni di geologia, botanica e idrologia E a fine percorso per i più coraggiosi un tuffo rigenerante Temperatura dell'acqua 9 gradi E a fine percorso per i più coraggiosi un tuffo rigenerante